Terribile storia di maltrattamento e violenza in famiglia Rimini. Una ventenne svela gli abusi del padre contattando sui social l'associazione antiviolenza, l'uomo arrestato dalla mobile. Residenti Pep, approvato al Senato un emendamento per rinviare l'aumento dei valori di riscatto. A Marina Centro, prima lo scioglie Almeni, che nel prossimo futuro sarà stelle e strisce, poi quello delle frecce tricolori. Riviera Banca, Baschette e Rimini fallisce contro Roseto, il primo match point promozione a disposizione. Domani proverà a chiudere i conti ancora al Flaminio. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Carottigi. In apertura la cronaca ha tenuto sotto scacco per anni l'intera famiglia, sottoposta a maltrattamenti di ogni tipo e ha perfino abusato della figlia maggiore quando era poco più che un'adolescente. È stata proprio lei a contattare su Instagram l'associazione antiviolenza rompi il silenzio Rimini e a raccontare in chat privata le violenze sessuali subite dal padre, ma anche le botte ricevute dopo ogni rifiuto tentativo di opporsi. Percosse che toccavano quasi settimanalmente anche la madre, costretta a chiedere l'elemosina alla sorella minore e al fratello. Grazie alla tempestiva segnalazione dell'associazione alla questura di Rimini e alla successiva denuncia sporta dalla figlia più grande, una ragazza di 23 anni, la squadra mobile di Rimini ha potuto interrompere la tirania del padre, un 47enne rumeno arrestato questa mattina per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Un provvedimento reso possibile anche dalla tempestiva ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in tempi rapidi dal GIP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine del grave incidente che sabato pomeriggio poco prima delle 14.30 ha visto coinvolti una Nissan e uno scooter Piaggio Beverly con a bordo due persone. Teatro della collisione, la statale 16 all'incrocio con la consolare Rimini-Sammarino. Ad avere la peggio sono state le due persone in sella allo scooter sbalzate con violenza sull'asfalto dopo l'impatto. Entrambe ricoverate in ospedale, una delle quali è stata trasportata d'urgenza con l'eleambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sarebbero serie. Il traffico ha subito un forte rallentamento a causa della chiusura di Via della Repubblica in direzione San Marino per permettere i soccorsi. Ad occuparsi dei rilievi una pattuglia della polizia stradale. Ora il consueto aggiornamento sul coronavirus. Anche i dati del bollettino di oggi confermano l'inversione di tendenza registrata nei giorni scorsi con un aumento di casi che al momento non si ripercuote sugli ospedali. Vediamo. Si conferma il trend di crescita degli ultimi giorni sia in Emilia Romagna che nel Riminese. In provincia per il terzo giorno consecutivo i contagi Covid superano quota 300, sono 307, ieri erano stati 331 e giovedì 315. Restano fermi a tre i pazienti in terapia intensiva all'ospedale infermi mentre si registra il decesso di una donna di 88 anni. Anche in Emilia Romagna i contagi si confermano oltre i 3.000, sono 3.157 a fronte di 13.689 tamponi. La percentuale di positività è del 23%. Sommando i dati delle tre province romagnole, i nuovi casi in un solo giorno sfondano quota mille, un terzo di quelli registrati in tutta la regione. Circa 47 anni l'età media dei nuovi positivi. Le guarigioni oggi sono 1.545 mentre continua alla rapida crescita dei casi attivi che arrivano a 25.691. L'incremento di contagi, almeno per il momento, non si ripercuote però sugli ospedali. Sono 27, 1 in meno, i pazienti nelle terapie intensive regionali e 672, 8 in meno, quelli nei reparti ordinari. Due purtroppo invece i nuovi decessi comunicati oggi. Voltiamo pagina. Dopo la beffa delle scorse settimane sui valori di riscatto, arrivano nuove speranze per i residenti dei PEP. In commissione al Senato c'è stato infatti l'ok all'emendamento che introduce un periodo transitorio. Lo rende noto il comune di Rimini il servizio. Una boccata d'ossigeno per i residenti PEP dopo la beffa del maggio scorso, quando nell'ambito del decreto sull'emergenza ucraina il governo aveva eliminato i tetti di 5.000-10.000 euro fissati nel 2021 per il riscatto delle aree, rendendo di fatto molto difficoltosa l'acquisizione da parte dei residenti. Dopo la levata di scudi di molti comuni, in testa quello di Rimini, ieri in commissione al Senato è stato però approvato un emendamento al decreto PNRR2, firmato dai senatori Manca e Misiani, che introduce un periodo transitorio che consentirà a tutti i cittadini che prima del 20 maggio avevano in corso una procedura per il riscatto delle aree, di poter avvalersi della precedente disciplina e quindi dei massimali fissati. In attesa della definitiva approvazione in aula del decreto, il comune di Rimini esprime la propria soddisfazione, anche se, si legge in una nota, non nasconde l'amarezza per le modalità e le tempistiche inopportune con cui si è introdotta la normativa. A Rimini sono 1.700 gli immobili potenzialmente interessati dal provvedimento e oltre 900 le istanze pervenute al comune, tante le istruttorie in itinere che avrebbero visto, in corsa, aumentare i valori di riscatto. All'apertura della nona edizione di Almeni, che è tornata in piazzale Fellini, lo chef stellato Massimo Bottura ha annunciato che la Kermes sarà esportata a New York. Vediamo. Proprio oggi abbiamo avuto una bellissima notizia che andremo probabilmente con Almeni, andremo probabilmente, sì, probabilmente, diciamo probabilmente. Lasciamo una percentuale di dubbio, ma ci sposteremo negli Stati Uniti, finalmente. E così, dopo due anni di sogno, proprio oggi all'apertura della nona edizione della Kermes, ideata dallo chef stellato insieme all'allora sindaco Gnassi, sarebbe arrivata l'ufficialità del futuro a stelle strisce di Almeni. Il mio sogno sarebbe vederlo sull'highline di New York, quindi creare un circo nella zona del Meatpacking Dixstreet o nel centro di Central Park sarebbe qualcosa di clamoroso. Quale potrebbe essere il tema? La cucina degli emigranti, il tema della contaminazione, oggi è il Mediterraneo, più contaminazione di così non c'è. Arriviamo a New York e tutti parlano alla cucina italiana. No, è una cucina italiana, della cucina degli emigranti che viene reinterpretata dall'altra parte dell'oceano, anche con tante scorciatoie, ma aggiustando i gusti, aggiustando la percezione. E la nostra deve essere una cucina profondamente italiana e quando è un prodotto come il parmigiano o l'aceto balsamico tradizionale, sono insostituibili. Come dico sempre, l'ingrediente più importante per il cuoco del futuro è la cultura. Dopo l'apertura la parola è passata agli chef, con gli show cooking a rotazione nella grande cucina a vista nel circo. Quest'anno il tema di Almeni è il Mediterraneo. I produttori sono protagonisti con i prodotti dal parmigiano reggiano ai salumi di suino di razza mora romagnola, le mortadelle presidio slow food, miele, zafferano e tanto altro. Almeni è per certi versi un senso di direzione di marcia che la città e il nostro territorio si è dato, ovvero quello di una consapevolezza di essere grandi, grandi non solo grazie alla nostra spiaggia, al nostro mare, non solo alle nostre testimonianze storiche e monumentali, ma anche grazie a un patrimonio costituito dalla nostra enogastronomia. Quindi l'enogastronomia riminese, romagnola, emiliano e romagnola sarà ambasciatrice del nostro territorio persino negli Stati Uniti. Questo per noi è davvero un grande risultato. Dopo l'assaggio di ieri con le prove, oggi è stato il giorno dello show delle frecce tricolori a Rimini, uno spettacolo che non ha tradito le attese. Tutti con il naso all'insù. Il fascino delle frecce tricolore che mancavano a Rimini dal 2019 ancora una volta non ha tradito le attese in un crescendo iniziato intorno alle 16 col volo dell'elicottero del quindicesimo stormo che davanti alla spiaggia ha calato la bandiera nazionale accompagnata da un aerosoccorritore sulle note del lino di Mameli. La dimostrazione di ricerca e soccorso dell'elicottero militare ha dato il via al programma di volo acrobatico che ha visto anche il lancio di quattro carabinieri paracadutisti sulla spiaggia davanti a Piazzale Kennedy, cuore dell'evento. Il momento clou intorno alle 18 con l'arrivo dall'aeroporto militare di Cervia delle frecce tricolore della pattuglia acrobatica nazionale. Mezz'ora di evoluzioni ben visibili da tutto il litorale che hanno richiamato lo sguardo di tutti, bagnanti e non verso un cielo azzurro, tinto di verde, bianco e rosso. Si intitolava Cose dell'altro mondo l'incontro che ieri sera ha animato la quinta serata del Mistfest dedicata ai misteri dello spazio. Sul palco è stato celebrato il settantennale di Urania, la collana editoriale dedicata alla fantascienza. A fine serata anche un suggestivo spettacolo dedicato a stelle e pianeti, cosmogonia. Il Mistfest ha sempre raccontato il mistero, il mistero nel giallo, nel thriller, nel noir, ma c'è anche la fantascienza, la fantascienza è un generale importante, nella fantascienza il mistero, a volte anche il giallo e il thriller ci sono, ci sono stati e sono importanti. La fantascienza ha raccontato quello che sta succedendo oggi, dalla pandemia alle guerre alla desertificazione, alla sovrappopolazione, li stiamo vedendo una per una tutte. Quindi il bello è poter capire che attraverso un genere letterario si può cercare di capire quello che l'umanità dovrà affrontare e magari anche capire come affrontarle, come superare i problemi. Poi leggiamo più fantascienza, così capiamo come risolvere i problemi d'oggi. Mondo nove, un mondo particolare. Noi come fantascientisti giochiamo in trasferta, in una città come Cattolica, che è la città culto del mistero e città culto del giallo, però siamo sempre in trasferta perché noi lavoriamo con un altro tempo, con altre dimensioni, con altri pianeti, con temi molto diversi che hanno in comune col giallo il mistero molte volte, il senso del meraviglioso anche. L'immagine deve sempre tenere conto che dietro c'è un libro, c'è un autore, però deve avere qualcosa che incuriosisce un lettore, deve trascinare all'interno. Io stesso da piccolo quando vedevo sulle bancarelle gli Uranian ero attirato dalle copertine. Poi in realtà magari il libro non lo leggevo perché ero troppo piccolo oppure perché lo lasciavo a metà, era complicato, però le immagini che al tempo erano di Carel Toll, che fosse il più grande tra gli illustratori di Urania, mi facevano entrare. Ecco io voglio riproporare la stessa cosa, sono 22 anni che le faccio ogni mese e ogni volta è bellissimo poterne fare un altro. Grazie a tutti!